Nelle domeniche del 17 e 24 novembre il Codma di Fano apre il salotto del gusto di sapori e aromi d'autunno. Un appuntamento fisso da 36 anni con la mostra mercato che esalta i sapore autunnali del territorio mettendo in vetrina le sue eccellenze agroalimentari assieme ad un ricco programma di eventi collaterali e riconoscimenti. Tutto quello che saranno le degustazioni, la camminata del cuore, la prima domenica, con il pomeriggio tutte le iniziative nel salotto del gusto che prevedono assaggi, degustazioni, presentazioni di programmi compreso la presentazione del Baccala Fest, l'iniziativa che sarà l'appendice di sapori e aromi d'autunno e proseguirà fino a marzo prossimo con il coinvolgimento di ristoranti e gare gastronomiche del territorio. Un'esaltazione sensoriale che va oltre il gusto, tant'è che quest'anno la Rassegna ha creato anche un suo originale logo olfattivo. Abbiamo iniziato il nostro slogan quest'anno dai profumi alla provetta. Abbiamo inventato, grazie a degli amici di Fano, dell'azienda di Fano, 5 Natura, un logo olfattivo che metteremo a disposizione di chi vorrà avere durante la manifestazione, non è altro che un profumo nato dall'insieme di profumi che ricordano i sapori e gli aromi dell'autunno. Oltre all'organizzazione di viandanti dei sapori e olia, il festival si avvale anche del sostegno di Confcommercio. I sapori e aromi d'autunno che giunge alla 36esima edizione è la manifestazione del settore più importante, più longeva a livello regionale e quindi Confcommercio, che già l'anno scorso aveva dato il proprio supporto all'organizzazione, quest'anno ha incrementato la propria presenza, sia perché da sempre ci occupiamo di promozione territoriale, oltre che turistica, con l'itinerario della bellezza, ma perché la valorizzazione dei prodotti del territorio, la valorizzazione dei prodotti gastronomici legati anche al mondo della ristorazione, fa parte del nostro core business, del nostro DNA. In un periodo sicuramente anche pre-natalizio è importante valorizzare le eccellenze, i prodotti che escono dalla nostra terra, i sapori e aromi d'autunno è sicuramente una manifestazione che porta persone nella nostra città, al CODMA e mi auguro anche nel centro cittadino, quindi anche nelle altre attività economiche, quindi è una mostra da tutelare, da mantenere e da implementare quello che stiamo facendo e faremo anche nei prossimi anni.